Ciao a tutti ragazzi sono Matti e benvenuti in questo nuovo video Oggi saremo su Fortnite e faremo una partita normale per farvi vedere come giochiamo Perché è il mio primo video E poi magari nel prossimo video faremo delle challenge Iniziamo Ok siamo ritornati e ora stiamo per entrare in partita Ci vediamo direttamente lì Ok ragazzi siamo in partita Dove vogliamo andare raga? No Andiamo all'autorità Raga allora purtroppo un mio amico non può parlare perché è il mio primo video Quindi non so come farlo sentire insomma Quindi per questo video non si sentirà Comunque si chiama condizionatore e chiede un mio amico E poi c'è Luca Mino che sarebbe mio fratello Luca 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 Sshh Mamma mia pizzeria Mamma mia pizzeria Mamma mia pizzeria Non puoi ridare Con una patatina E' un caccio Non è un caccio Andiamo 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 Oh mi serve un altro anno il caccio non mi piace Non lo so usare Eccolo il ramass Zitto Raga Raga Allora però mi lasciate tutto il cavo perché Raga player Raga mi sta laggando tutto Non mi mette le armi E' un caccio Ok ora si Raga mi sta laggando un botto Mi sta laggando un botto Stavo registrando la vera Che sta che avrà visto il video Poteva guardare Raga col piede Col piede Ripeto Siamo incasinati Raga zitti però E' sempre Luca zitto Siamo sempre bombili Non puoi ridere come una gallina Sì Raga venite Fermo fermo E devo curare loro Ok curano Matti venite a me Che sennò puoi Zitto Luca però Dimmi se c'è tutto il mio Raga player Io devo curare la porta Curalo curalo Tu non vorremmo 61 61 E' dietro qua Moia Ok ci sono Raga mi date un po' di coltiponta Raga mi installa che mi involge Raga io ho solo due cellini per cure Raga uno c'è là Raga uccidete Raga c'è uno E uccidilo E' vero questo E' tutti erano veri Ecco E' Vabbè raga siete morti tutti O almeno una volta Tu due volte Io una volta Io una Io no Tu due Ok Ok Ci marterà come l'uva E' 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 Miel C'ha Va Devo sapere qualcosa di più Sì, certo Oh, devi fare ragazzi, non vuole? Vieni lì non posso fare Alla stessa cosa Io non ho messo più Io non ho tentato Non è anche un po' me 40 e 40 Ok, una Mattia, vieni Ma vai Sì Ok No, ma No, ma è un po' me Ma che! non potevate anche fare prendiamo un po' di auto facciamo un'auto lunga andiamo verso l'auto poi prendiamo una cosa lunga un'auto lunga e qui c'è una pallaca io non ho spazio prendiamo un pick up prendiamo la jeep la jeep passa in tutto prendiamo quello che vuole facciamo che se volete venire potete salire vuoi salire lori mi raccomando non togliere troppo stai attento noi taglieremo non leggeremo perché ci sono gli schiacci al posto panica raga però non mettete le canzoni perché sennò ci arriva il copyright con i denti a sciacqua ma che si stanno ah dopo possiamo fare un secondo video che facciamo la benzina Oh si, raga veniteci a seguire nel prossimo video che faremo, faremo i benzinai e poi nel terzo video non vi dovete assoluto perdere niente perché nel terzo video chiederemo il passaggio raga, dovete sapere che chiedere il passaggio e vi lo mettere è molto carino perché qua c'è la stessa cosa di fare il benzinaio quindi non perdetevi i prossimi gli altri i prossimi due video che faremo, sempre oggi raga, non faremo uscire 3 al giorno, supporta creator macchi, non ce lo dobbiamo incrementare, vabbè raga state tranquilli che per domani forse lo faremo supporta creator, forse, ah e vi devo dire che io posso no, aspetta, non posso, posso ui, che bello stare ah raga, comunque se lo volete sapere noi giochiamo da nintendo switch, la nostra piattaforma è da switch, se lo volete sapere raga commentate con, raga se siete anche voi da switch commentate con hashtag, con hashtag switch luca ma perchè siamo seduti a scendere? cosa hai? e se siete da play con hashtag play, se siete l'ex boss luca ma non so, luca ma perchè parli troppo? non so neanche se ci stanno, ma ti stai zitto un poco non mi piace morare voglio fare pubblicità eh, beh ci stanno, eh, che fanno piu di che seguire no oh la lambo oh eh, ci vuole ma la lambo brua arriviamo luca sali si, sempre raga andiamo a lavar l'ambito dai un'altra lambo scusate raga per la parola ma stavo per distruggere l'amma mi devo sbozzare un'altra volta addosso no giusto un'altra lamborghini e ma allora raga seguitemi un'idea andiamo al lago raga venite ragazzi ora scoprirete delle lamborghini oh mamma lorenzo brutte parole che stavo sganciando schifoso schifoso se trova un'altra lamborghini cioè ci devono fare i coperitti delle lamborghini proprio non lo dire che poi ce lo fanno e appunto me raga vediamo nel posto segreto se c'è la lambo eh andiamo al posto segreto voglio vedere due no no è uno no vabbè li facci vedere solo chi vuole dare il video guarda e mi farà vedere la lambo e la lambo e la lambo oh raga quella lilla è un tinta con il mio colore raga 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 da tan 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 via 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 Raga mi raccomando e commentate se si può commentare poi vediamo i commenti commentate con un hashtag Drift Lamborghini. Drift Lamborghini? Drift con la Lamborghini anzi, hashtag Drift con la Lamborghini. Ma perché non gli posso buttare l'hashtag di tutti? Perché tu no, lo dici tu io cosa devi fare, stai zitto. Allora? Ora ti devi stare zitto. Sì, però se non ti stai zitto io te la faccio vedere da solo. Eh ma dove stanno gli amici? Se io non fiammolo, adesso ci vanno i nemici. Seguramente. Se no ti ammazzo. Dai. Raga, commentate con la Lamborghini blu. No, aspetta non, non lo fate se no ci danno il coperà. Ce lo fanno. No, perché non lo senti, però non è. Allora, sali! Comentate solo con... Ci vedevamo per un attimo nello stemmo. Comentate solo con hashtag Lamborghini. Comentate così. Non si possono buttare così tanti asciano, mi dispiace. Eh, dove l'abbiamo buttata? Eh, no. Fratelli. Uno ha un video. Va bene. Fateci sapere se volete anche... E da me, da me, da me un video di Minecraft. Vi posso, posso far vedere, posso far vedere costruzioni speciali. Vabbè, per Minecraft. E se ce l'avete Minecraft io vi potrei far vedere costruzioni speciali che potrete aggiungere al vostro Minecraft insomma. Raga, player! Se non mi piace tanto. Raga, a me mi hanno distrutto la jump. Bastiani. Quindi, se volete... Se volete vedere video... Raga, ci sono altri da. Ok. Se volete vedere video di Minecraft, fatemelo sapere, raga, perché... Attento, Lori! Per costruire pezzi di scrotocefali. Sono molto bravo. Pezzi di scrotocefali. Dietemi se lo volete sapere. Oh, raga, guarda che bottino che avevano. Non me li porti. Stai prendo la... Maia! Luca, non mi puoi dire. Magari si dovrà vittare quello. Si dovrà vittare. Porca trottola! Raga, mi hanno preso. Mamma mia! Era finito. Mamma mia, pezzeria! No, dai, raga. Bastiani. Ucciso. Che so. Raga, avete visto le mie skill quanto sono forti? Cioè, commentati con... No, aspetta. Sì, commentati con Luca Forte. E vi parlo anche. Raga, avete visto quanto sono loro col cieco? Anche se lo botte. Ah, raga, fatemi sapere se volete... Stai zitto. Comentate con... Non mi sapere, raga, se volete... Fatemi sapere se lo botte. Luca, stati zitto, però! Non mi vuoi dire, lo stai con me quando vedere... Oh, ma... Le costruzioni speciali di... Raga, c'è una prova reggisolazione che il bot si è sparato nei piedi con lanciarazzi. E così si conclude il video. Raga, fatte... Diteci il commento di essere un rezzo. E noi ci vediamo in posto del nuovo video. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti